Eccoci di nuovo qui in aula a risollevare un problema al quale Regione Lombardia continua a opporsi con una sordità che è assolutamente fuori da ogni tipo di aderenza all'evoluzione sociale, alle trasformazioni dell'ordinamento ma alla stessa evoluzione della società e dei costumi. Cosa proponiamo in questa mozione? Premesso che ci basiamo su una legislazione e comunque tutto un apparato normativo al quale la stessa Regione Lombardia dovrebbe adeguarsi non solo a parole ma nei fatti. Cito per esempio l'articolo 2 dello Statuto della Regione Lombardia dove dice la Regione opera per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali. Cito gli articoli della Costituzione che i miei colleghi conosceranno bene che sono riguardanti la concezione dell'uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale. Cito in particolare una sentenza che viene usata dalla maggioranza in modo assolutamente strumentale ma che nel suo dettato è illuminante e dovrebbe illuminare una volta per tutte anche questo Consiglio regionale che è la sentenza della Corte Costituzionale numero 138 del 2010. Questa sentenza viene citata sempre a sproposito. Ho avuto modo di dare una scorsa alla mozione presentata da NCB oggi a sorpresa come mozione urgente nel tentativo di arginare evidentemente la mia mozione e in barba al regolamento. Abbiamo molto apprezzato che il Presidente Cecchetti si rifiutasse di abbinare le due mozioni anche perché la mozione di NCD presenta dei contenuti che non sono contenuti condivisibili proprio alla luce del dettato normativo citato prima d'ora. Intanto la sentenza 138 citata anche nella vostra mozione cari signori della maggioranza non restringe l'istituto familiare alle coppie eterosessuali. fatevene una ragione perché non lo restringe questo istituto al solo campo delle coppie eterosessuali ma invita il legislatore a fornire tutela giuridica anche alle coppie di fatto e, ebbene sì, alle famiglie omosessuali. In Regione Lombardia siamo rimasti alla versione 0.0. Per quanto tempo dobbiamo rimanere così? Per quanto tempo dobbiamo parlare di oscurantismo dei diritti? Quando riuscirete a fare questo passo avanti? Che è un passo che si sta facendo in tutto il mondo, anzi lo hanno già fatto. Regione Lombardia, che voi mi inlantate a essere all'avanguardia per tutto, sui diritti ancora alla versione 0.0. Questo vostro continuo riferimento alla sentenza della Corte è assolutamente strumentale e ideologico perché questa sentenza stabilisce l'esatto contrario di quanto andate sostenendo, cioè la Corte Costituzionale ha indicato un vuoto normativo riguardante la tutela delle famiglie omosessuali che deve essere colmato, che voi vogliate o non vogliate, siccome la Corte Costituzionale che lo dice che esiste questo vuoto normativo, questo vuoto normativo va colmato perché altrimenti noi creiamo discriminazioni fra le persone di serie A e di serie B, in particolare parlo per quelle che hanno un orientamento sessuale diverso dal vostro evidentemente. Con la mozione cosa chiediamo? Chiediamo che Regione Lombardia promuova e sostenga la Costituzione dei registri delle unioni civili all'interno dei comuni della Lombardia e promuova le trascrizioni nei registri di Stato civile dei comuni lombardi, la trascrizione dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso. Peraltro fra le sue dirette competenze e noi chiediamo attenzione su questo punto, chiediamo di promuovere nelle scuole medie e superiori della Regione Lombardia incontri specifici sull'educazione alla diversità al quale dovrebbero partecipare anche alcuni consiglieri regionali che di educazione alla diversità non sanno nulla, incontri per il contrasto al bullismo e all'omotransfobia, prevedere anche atti di competenza regionali con condizioni di riconoscimento e pari tutela anche alle forme di convivenza. Nonché chiediamo di estendere la partecipazione alle opportunità e ai servizi e alle agevolazioni previste da Regione Lombardia anche a coloro che risultano iscritti ai registri delle unioni civili. I registri delle unioni civili. Dunque, noi sappiamo tutti di quella fantomatica circolare del 7 ottobre del Ministro Alfano. Una circolare che è stata emessa ed è una figuraccia mondiale, oltre che un errore gravissimo per una persona che ricopre un ruolo istituzionale così di prestigio come quello del Ministro e che è a lui l'irregolare in questa situazione. Noi siamo consapevoli della correttezza legale della trascrizione e quindi anche della perfetta regolarità da parte dei sindaci italiani che hanno operato facendo trascrizioni. E qui usiamo quest'aula anche per sensibilizzare i colleghi dell'opposizione al PD, i quali a loro volta dovrebbero sensibilizzare il Governo e il Premier Renzi affinché prendano le distanze dalla circolare di Alfano. Perché questo, dal 7 ottobre scorso, signori, non è mai successo. Il Premier Renzi non ha mai detto una parola. Abbiamo un disegno di legge, Cirinna, fermo lì in Parlamento. Abbiamo chiesto conto ai nostri parlamentari. È lì nei cassetti a prendere polvere. Quindi questa è una responsabilità in regione della maggioranza di avere attenzione, ma sicuramente è una responsabilità che ha le sue conseguenze anche perché c'è una sorta di connivenza su questa difficoltà a riconoscere i diritti degli omosessuali anche a livello centrale. Signore, peraltro, voi rilevate che non spetta ad accordi internazionali il riconoscimento del matrimonio, bensì all'ordinamento nazionale. Questo è vero, ma la richiesta avanzata dalla mia mozione è un'altra, quella appunto di poter iscrivere i matrimoni contratti all'estero da coppie dello stesso sesso nei registri comunali. Il che, signori, è un atto di natura amministrativa, non legislativa. Quindi i sindaci che trascrivono i matrimoni all'estero stanno esercitando un loro legittimo potere amministrativo che non intacca l'ordinamento legislativo. Quindi anche la vostra obiezione in quella mozione è assolutamente infondata perché confonde i poteri amministrativi col potere legislativo. Torniamo inoltre, perché io già prevedo quali saranno le ringhe che farete a seguire dal mio intervento, a riferimento alla famiglia naturale, che è il modello che questa maggioranza pensa di poter imporre alla popolazione. Senza aver capito, come abbiamo detto tante volte e oggi lo ripeto ancora, che la famiglia è una formazione sociale che preesiste allo Stato e che la Costituzione e lo Stato non possono restringere né pregiudicare. Questo in alcun modo preclude all'estensione delle tutele che sono riservate al matrimonio anche ad altre formazioni sociali emerse nel tempo e nella variabilità storica, come appunto sancito dalla sentenza 138-2010, che io vi invito a rileggere bene. Per questi motivi noi reputiamo tantissimo che quest'oggi si faccia questo passo avanti. Per questo motivo noi chiederemo il voto segreto, ex articolo 79 del regolamento, sperando che nelle fila della maggioranza, dove il voto viene espresso sulla base di un diktat dall'alto, ci si metta una mano sulla coscienza e si impari a tradurre le parole in fatti. Se siamo contro le discriminazioni, non possiamo consentire e anzi dobbiamo fare in modo che Regione Lombardia si faccia promotrice anche dei diritti degli omosessuali. Io sono indignata per tutto il modo in cui è stata gestita questa mozione, da cui sono emerse due cose che mi hanno colpito in modo particolare. La vostra paura di affrontare questi argomenti, di parlare di diritti che riguardano persone che voi considerate persone diverse se non di serie B e continuate ad arrampicarvi sui vetri, facendo dei casi da codice civile e sapendo benissimo che la Costituzione italiana dice ben altro di che cos'è la famiglia, dice ben altro dell'uguaglianza delle persone, dice ben altro del dovere delle istituzioni di farsi promotori, di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alla persona il libero esercizio della propria dignità. Quindi voi sapete benissimo quello che state facendo e vi fa paura il diverso, come vi fa paura parlare di educazione alla diversità nelle scuole. Io mi sono posta tante volte la domanda del perché c'è questa paura del diverso, colleghi. Perché sapete, io sono eterosessuale, però come vedete con ostinazione porto avanti questa battaglia di civiltà per chi ha un orientamento sessuale diverso dal mio e non ho paura che garantendo i diritti a chi ha un orientamento sessuale diverso dal mio anch'io diventi omosessuale. Ma basta! Arrivare in questo Consiglio regionale e sentire persone che non vogliono che si tratti questi argomenti in aula del Consiglio regionale. Quando ci sono associazioni, cittadini, migliaia di persone che in questo momento sono deprivate dei loro diritti, grazie alla vostra complicità, perché è collega decorato, le leggi si fanno e si disfano. Però occorre la volontà politica di farlo, la volontà politica di farlo. E quello che è emerso oggi in quest'Aula non è una questione di omosessuali o no, non c'è la volontà politica da parte vostra di garantire i diritti a queste persone perché vi fanno paura. È questa la cosa allucinante e inaccettabile da parte di rappresentanti istituzionali eletti dai cittadini. venite qui a parlare a noi di farci propaganda. A noi venite a dire di farci propaganda quando voi usate queste tematiche. Io mi chiedo di farlo per lisciargli il pelo da destra e da sinistra e poi sono anni che non riuscite a garantire nulla. Io, come ha detto bene il Consigliere Decorato, ho un brutto difetto, sono ostinata. Pertanto continuerò a fare questa battaglia perché è prima di tutto una battaglia culturale. Consigliere Nanni, la invito a concludere con la dichiarazione di voto che non ha ancora fatto. Concludo. Voi state imponendo il modello della famiglia del mulino bianco che non esiste. Non esiste. La famiglia si esprime in mille legittime espressioni degne di tutela anche le coppie omosessuali. Satene una ragione di questo.